Vigilia di gara 2, Emanuele, come si arriva a questo match, soprattutto i due giorni di tempo? Cosa vi hanno fatto pensare rispetto all'epilogo di gara 1? Le partite sono veramente molto ravvicinate, quindi non c'è stato tanto da allenarsi. Ieri abbiamo un po' recuperato, oggi un allenamento, ma ci sono anche diverse ore di pullman per Perugia. Ma cosa dire, la partita ci ha sorriso dal punto di vista del risultato, ma è stata una partita durissima. Il primo set è molto combattuto, l'abbiamo perso al photo finish un po' in modo ingenuo. Il secondo abbiamo vinto bene, il terzo abbiamo fatto una bellissima rimonta perché sembravamo un po' spacciati in quel set, invece poi alla fine con tanto cuore siamo tornati sotto e abbiamo vinto. Il quarto loro l'hanno accusato, hanno accusato la botta della sconfitta del terzo e è stato tutto un po' più semplice. L'elemento distintivo di quest'ultimo periodo però è sicuramente il muro, fra i protagonisti ci sei tu. Cos'è cambiato rispetto magari ad un mese fa dove non riuscivate ad andare a segno così tanto e dove magari non sporcavate così tanti palloni? Non so, non so cosa dire. È vero, ultimamente il muro ci ha aiutato molto, sicuramente è un fondamentale su cui lavoriamo molto in palestra. Credo che anche individualmente abbiamo tutte le potenzialità per far bene, insomma queste cose messe insieme fanno sì che poi in partita sia un fondamentale che va molto forte. Gara 2, tutti avete detto dopo la gara 1 è sicuramente più difficile però, Trento? No, vogliamo vincere ovviamente, speriamo di vincere, penso che abbiamo le nostre chance perché comunque anche siamo in vantaggio. Una bella partenza potrebbe aiutarci però siamo fuori casa, loro hanno un palazzetto tutto pieno e soprattutto uno dei tratti distintivi di questa squadra da un paio d'anni, parlo di Perugia, che non molano mai. Sì, comunque tanto cuore, tanto agonismo, anche l'anno scorso, anche qua, tanto orgoglio di provarci fino alla fine, quindi non è una squadra che regala niente, dovremo semplicemente essere più bravi di loro.